bisogna dire che l'influenza è una malattia che noi conosciamo ormai da veramente da tantissimo tempo di cui abbiamo conoscenza approfondita sia dal punto di vista scientifico e dal punto di vista clinico e sappiamo quanto sia temibile e anche la malattia trasmissibile e prevenibile con vaccinazione per la quale abbiamo maggiori armi oggi l'arma una delle armi principali è quella proprio della ricerca scientifica della conoscenza e del fatto che noi oggi vacciniamo una popolazione over 65 anni ma con la possibilità di vaccinarla tutta questa popolazione abbiamo anche dei sistemi di sorveglianza che cosa abbiamo imparato dall'influenza in tutti questi anni abbiamo imparato che quella popolazione che noi vacciniamo in maniera più estensiva con maggior impegno cioè la popolazione over 65 anni che la popolazione un po più fragile quella un po più anziana con maggiori comorbosità di fatto ha i più piccoli tassi di incidenza di influenza stagionale mentre l'influenza stagionale oggi è sostenuta fondamentalmente da tutto il resto della popolazione ma questa popolazione se noi togliamo la parte pediatrica di interesse pediatrico di fatto la popolazione attiva adulta quella sopra i 50 anni è un contributore straordinario oggi sia di casi di influenza sia di potenziale risparmio di casi e di ospedalizzazioni che l'influenza invece ci dà questo lo dimostrano proprio i dati di letteratura scientifica ci sono c'è un grande interesse su questo perché oggi si è capito come di fatto la fetta di popolazione che oggi maggiormente soffre dell'influenza e che determina dei costi importanti dal punto di vista dei casi e dal punto di vista anche dei costi sociali di assenteismo dal lavoro è la fetta dei cinquantenni dai 50 ai 64 perché over 65 molto spesso sono già pensionati over 65 li conosciamo bene li vacciniamo e abbiamo avuto degli ottimi risultati dal punto di vista dell'abbattimento dei casi dal dal punto di vista del risparmio di visite ambulatoriali di ospedalizzazioni e anche di decessi se vacciniamo bene ma dai 50 ai 64 è una fascia in cui abbiamo una diminuzione di efficacia del sistema immunitario gli studi scientifici più recenti lo dimostrano l'immunosenescenza inizia ai 50 anni intorno alla soglia dei 50 anni e poi accelera man mano che si va avanti per età e questo provoca una maggiore presenza di morbosità cronico degenerative di altre malattie che siano il diabete l'ipertensione malattie polmonari malattie cardiovascolari tutte quelle malattie che rendono l'individuo più fragile più debole rispetto all'aggressione di un virus come quello influenzale che cambia ogni anno e che fa nuovi casi e allora ecco che vari vari stati si cominciano a porre l'idea sulla base dei dati scientifici di anticipare di anticipare la vaccinazione le raccomandazioni e le campagne di vaccinazioni nazionali per l'influenza noi in realtà già in italia la raccomandiamo a partire dai 60 anni possibilmente anche se tutte le nostre casistiche sono fondamentalmente sopra i 64 anni però oggi il mondo si muove cercando di anticipare cercando di intercettare l'influenza proprio in quelle popolazioni che sono quelle lavorativamente più attive che sono quelle che hanno bambini magari di età ancora non eccessivamente grande quindi sono ancora in gruppi familiari piuttosto cospitui e quindi dove la trasmissione il contagio è molto molto più facile e i dati oggi ci proprio ci dicono che nei cinquantenni nei cinquantenni negli stati uniti per esempio l'incidenza delle delle dell'influenza è più alta che nelle altre fasce fasce di popolazione ci dicono anche i dati scientifici che il burden economico dei soggetti tra i cinque oltre 50 anni è elevato e che la perdita di produttività è enorme dal punto di vista dei costi indiretti quindi credo che davvero sia importante iniziare a pensare di anticipare la raccomandazione per la vaccinazione anti influenzale portarla a 50 anni comprendendone ovviamente la sostenibilità io non mi voglio sostituire ovviamente a chi deve poi in qualche maniera decretare l'acquisto di vaccini in una fascia di età anteriore ai 65 anni e quindi la vaccinazione è stesa tutta la popolazione dai 50 in su però dal punto di vista scientifico dal punto di vista tecnico ci sono tutti gli elementi per poterla assolutamente portare avanti e per poterla auspicare al più presto anche nel nostro paese le do un dato locale che è importante perché fa capire quanto sia il fattore di contribuzione dei 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 cinquantenni sul burden dell'influenza a livello regionale la sicilia dove è presente un sistema di sorveglianza sia epidemiologico che virologico collegato con l'istituto superiore di sanità quindi con respi virnet per la parte dell'influenza i dati del duemila ventitré ventiquattro di questa stagione su oltre duemila campioni eh ottenuti dalla popolazione di varietà ci dicono che per esempio nella fascia cinquanta sessantaquattro anni il la percentuale di positivi all'influenza in questa fascia quest'anno è stata del venticinque per cento il venticinque per cento dei campioni che abbiamo ricevuto con ili perché chiaramente quando noi abbiamo un tampone fatto da un da un medico sentinella sul territorio è un tampone che mh proviene da una persona con una sintomatologia generale che si chiama influenza like illness però il venticinque per cento di queste persone avevano una infezione da influenza bene se noi andiamo a vedere quant'era in tutte le fasce questo soltanto per la fascia cinquanta e santaquattro ma se vediamo quanto questi positivi erano presenti in tutte le età quant'è la contribuzione bene la contribuzione è del nove virgola sei per cento quindi quasi il dieci per cento di tutti i positivi per influenza era nella classe di età cinquanta e santaquattro anni se vogliamo andare giusto a capire il paragone con gli over sessantacinque gli over sessantacinque nella tra tutti i positivi assommano per il sei virgola cinque per cento quindi nettamente meno di quelli cinquanta e sessantaquattro anni se vogliamo andare a vedere quanto i cinquanta e sessantaquattro anni incidono si su tutti i positivi so a over diciotta anni quindi sugli adulti fascia di età adulta sono il trentasette per cento di tutti i positivi di tutte le età adulte ancora una volta se prendiamo il gli over sessantacinque incidono per molto meno il ventotto per cento questo dà la dimensione degli equilibri tra due fasce di età una in cui noi vacciniamo in maniera ormai da tanto tempo ottenendo dei risultati importanti l'altra in cui vacciniamo poco perché la vaccinazione è raccomandata fondamentalmente sopra i cinquant'anni per i soggetti con comorbosità soggetti fragili ma la fanno in molto poche sono molto poche le persone che sottopongono la vaccinazione ogni anno per l'influenza e quanto sia importante invece coinvolgerli coinvolgerli con una campagna che non sia più over 65 ma sia over 50 il concetto di fragilità è un concetto che attiene alla capacità del sistema immunitario di un individuo di poter rispondere alla presenza di un microrganismo di un estraneo producendo degli anticorpi degli anticorpi o attivando delle cellule che poi insieme con gli anticorpi distruggeranno quelle quel microrganismo quell'estraneo che in qualche maniera entrato questo processo che quindi è un processo fisiologico presente in tutte le persone a un certo punto durante l'età subisce un processo di invecchiamento l'invecchiamento significa che è più difficile più lento il processo di reazione agli invasori ai microrganismi e più sono minori le cellule che vengono reclutate sono meno capaci le cellule e del sistema immunitario di creare una memoria più duratura e più e più forte nella risposta immunitaria questo processo che è un processo naturale che avviene in tutte le persone si chiama immunosenescenza proprio perché un processo fisiologico un declino è un declino fisiologico della capacità immunitaria viene ulteriormente potenziato in presenza di alcune malattie che ovviamente come proprio con un circolo vizioso in qualche maniera sono malattie che si giovano del declino fisiologico dell'immunità aggravandolo ulteriormente queste malattie sono malattie che possono essere metaboliche come il diabete per esempio le malattie cardiovascolari hanno tutte una matrice che deriva da una disfunzione immunitaria le malattie autoimmuni ovviamente le malattie infiammatorie croniche dell'intestino tutte quelle malattie che hanno una base per cui per esempio sono necessarie alcune terapie immunosoppressive per calmierare il processo immunitario alla base sono i tumori quindi tutte le malattie oncologiche tutti i soggetti oncologici sono soggetti fragili perché sono soggetti perché la una matrice genetica è comunque immunitaria è presente in tutti i tumori soprattutto quelle quella cosa immunitaria quindi stiamo parlando di fasce di popolazione enormi se non mettiamo tutte le malattie cardiovascolari le malattie respiratorie asma bpco eh i fumatori tutti i fumatori anche i comportamenti che determinano che hanno che in qualche maniera eh rallentano il processo immunitario come per esempio il fumo di sigaretta l'obesità tutte quelle caratteristiche di popolazione che di fatto mettono la in condizione qualunque soggetto di rispondere meno bene parliamo di milioni e milioni di individui oggi i dati scientifici ci dicono l'istat ci dice che a 50 anni tra i 50 e i 60 anni più della metà della popolazione di questa fascia di età ha una malattia cronica degenerativa che in qualche maniera rallenta il processo di risposta immunitaria quindi facilita la possibilità di poter contrarre un'infezione come quella influenzale tra 50 tra 60 e 70 anni aumenta ulteriormente di un altro video quindi sono più eh sono quasi quasi due terzi della popolazione che hanno almeno una comorbosità ma ci sono anche quelli con più di una comorbosità ci sono persone che sono diabetiche e hanno una patologia neoplastica o una patologia cardiologica alcuni ne hanno addirittura tre o anche più di tre questi sono gli ultra fragili e poi i trapianti le terapie immunosoppressive che oggi vengono fatte per esempio prima di accedere a un trapianto bene pensare alla vaccinazione e avere essere in una fascia di protezione per età è un ombrello che a mio avviso potrebbe aiutare moltissimo la popolazione che alla fine diventerebbe costo benefici dal punto di vista della del numero di persone fragili protette rispetto a quelle che magari potrebbero avere meno bisogno di questa protezione ma tutti hanno bisogno perché ognuno di noi o è fragile di suo o vive in un contesto con altre persone fragili allora è anche una responsabilità etica a mio avviso individuale di ciascuno essere protetti eh verso una malattia che ad altri o a noi stessi può fare davvero molto male noi viviamo in un condominio esteso un condominio esteso che è la popolazione specialmente in ambito urbano allora se uno abita eh su un pizzo di montagna abita da qualche parte assolutamente isolato magari può anche permettersi di pensare a se stesso punto e basta e dire guarda io non ho bisogno non credo averne bisogno non mi interessa e cose varie eh se invece mh se invece diciamo è una persona che abita che abita invece in un contesto in un contesto urbano eh ha rapporti sociali a un lavoro e quindi ha colleghi di lavoro a persone intorno magari nonni o figli piccoli più piccoli e cose varie secondo me oggi ecco la cultura di una popolazione la democrazia il rispetto si misurano nella capacità di pensare certamente a noi stessi ma di pensare a noi stessi come una persona inserita in un contesto insieme a tante altre persone allora se io sto ho la fortuna di stare bene di non avere malattie di essere relativamente giovane tra i 50 e 64 essere in piena attività lavorativa io credo di avere anche il dovere di proteggere me stesso per proteggere anche le persone che sono intorno a me a mio avviso è assolutamente auspicabile che ci sia oggi noi abbiamo dei vaccini adiuvati potenziati che sono davvero hanno prove di efficacia straordinariamente convincenti da arrivano da tutto il mondo i dati i medici di medicina generale con cui noi parliamo sempre mi dicono che quando vaccinano bene la loro popolazione loro durante l'inverno non hanno chiamate e quindi queste persone sono certamente protette è chiaro che c'è un problema di sostenibilità nell'allargare alle popolazioni la vaccinazione con raccomandazione forte da parte del governo ma credo che sia un allargamento che alla fine produce un effetto anche di abbattimento dei costi quindi certamente il primo anno potrebbe essere un aumento dei costi ma vedere gli effetti significa poi avere un rapporto costo benefici assolutamente produttivo quindi io credo che l'allargamento dai 50 anni oggi sia assolutamente possibile sia auspicabile vada fatto nell'allocazione delle risorse non sono io a dovere rispondere io posso rispondere dal punto di vista scientifico e tecnico dicendo che sono tutti i presupposti abbiamo gli strumenti abbiamo i dati su quelli che hanno già provato la vaccinazione parlo degli over 65 e che ne hanno beneficiato se noi estendiamo questi benefici a una altri 15 anni prima non possiamo che avere un vantaggio enorme in termini di minore morbosità durante le stagioni influenzali in termini di minore mortalità per quelle che sono le persone più fragili più delicate anche anche di quell'età e alla fine di maggior sicurezza per tutta la popolazione grazie a tutti